Lo sport in collaborazione con Vi diamo un motivo in più per visitare la nuova grande esposizione di Pegaso Fino ad esaurimento scorte sono iniziati i grandi saldi di mobili artigianali veneti in legno Affrettatevi, vi aspetta tutta la qualità di Pegaso e la convenienza dei grandi saldi Permettetemi di aprire con un grosso ringraziamento a tutto lo staff E i complimenti ai miei giocatori per il lavoro che stanno facendo È una prestazione che mi dà grande soddisfazione perché ho visto grande compattezza in tutte le componenti del nostro gruppo E questa cosa è stata sicuramente uno dei mattoni su cui costruire la vittoria Sono veramente contento di quello che la squadra fa, sono orgoglioso dell'atteggiamento dei giocatori A cui io personalmente voglio ogni giorno più bene Secondo me nel secondo tempo c'è stata la commistione di due qualità Che raramente si riescono a vedere insieme Se non in gruppi di alto livello C'è la capacità di giocare in maniera aggressiva, con iniziativa Ma allo stesso tempo con pazienza per non forzare troppo le soluzioni La commistione di queste due capacità, secondo me soprattutto in un momento di grande stress Di grande difficoltà come poteva essere recuperare da meno 11 punti È la cosa che dal punto di vista tecnico barra mentale Che vanno secondo me sempre d'accordo Mi ha entusiasmato di più della partita Lo sport, in collaborazione con Pegaso, mobili per sempre Strada statale 35 bis dei Giovi, Novi, Alessandria Aperti anche la domenica pomeriggio Il meteo, in collaborazione con Risparmia sulle spese di riscaldamento senza trovarti in mano un pugno di sabbia Da Punto Fuoco trovi 50 stufe caldaia Pellet Montegrappa in esposizione Da 950 euro più IVA Installazione e assistenza Tasso zero sino a 5000 euro Ancora nubi e residue precipitazioni sul nord-ovest In miglioramento del pomeriggio Con schiarite a partire da Alto Piemonte In estensione i restanti settori verso sera Temperature in aumento Punto Fuoco Vi invita tutti i mercoledì dalle 18 alle 19 A un corso gratuito per la manutenzione, la pulizia e la programmazione delle stufe a pellet Per partecipare prenotatevi allo 0131 89 4403 Con il progetto Cuore di Bimbi in 8 anni abbiamo operato e salvato la vita di 1373 bambini gravemente cardiopatici Aiutaci a ridare la vita a questi bambini Stanno aspettando con urgenza il nostro intervento Fino al 18 febbraio Dona 2 euro con un sms o 2 o 5 euro con una telefonata da rete fissa alle 45504 Aiutiamoli subito, prima che sia troppo tardi Grazie a tutti